Isernia sta per trasformarsi in una sorta di villaggio in cui si respirerà cultura in ogni angolo. Da giovedì a domenica prossimi le persone passeggiando per la città avranno la possibilità di partecipare a presentazioni di libri, convegni, laboratori di scrittura, dal centro storico quindi nella biblioteca, nel chiostro del comune, sulla terrazza del bar centrale o ancora a Palazzo Petrecca, alla parte alta della città, cioè nelle due librerie della Corte Giunti, ci sarà un susseguirsi di eventi gratuiti e di alto spessore culturale. È lettera 423, il nome scelto per la prima edizione del Festival della lettura di Isernia che si svolgerà dal 16 al 19 giugno come detto e la cifra 423 indica l'altitudine della città sul livello del mare ed è il marchio utilizzato anche per la recente kermess di musica classica organizzata sempre dal comune. Per entrambe le iniziative l'ideatore e l'assessore Luca De Martino che con un budget non molto ingente ma ben indirizzato ha allestito un programma fitto di appuntamenti con scrittori di tiratura nazionale anche di origini molisane. Si comincia giovedì 16 giugno quindi con Daniele Zobi, si prosegue con Valentina Farinaccio, Giovanni Gazzanni, Paolo Pizzo per una giornata a tema sportivo, con Pierpaolo Giannubilo, Andrea Gentile, Domenico Iannacone e ancora di Pietrantonio. Ci saranno inoltre due workshop di scrittura e la presentazione di una collana editoriale Cibus et Locus della casa editrice esernina Cosmo Iannone. Era un'idea diciamo che è nata da subito già nella campagna elettorale ma anche successivamente quella di dare la possibilità a Isernia di avere il suo festival della lettura. Nella nostra città ci sono diverse associazioni che spesso si dedicano a presentazioni di libri o partecipano molto spesso a festival anche all'estero. Ci sono diversi autori, ci sono autori anche che stanno diciamo raggiungendo le cronache nazionali quindi ci sembrava giusto organizzare anche a Isernia di un festival di un calibro piuttosto importante. Quattro giorni di presentazione di libri con grandissimi ospiti da Giannubilo a Domenico Iannacone, ci sarà anche la Iena Monteleone in tante location. Quindi l'appassionato potrà camminare per la città e trovare in tanti punti queste presentazioni. Sì, potrà camminare per la città, potrà percorrere tutta la città e trovare presentazioni in vari posti. Innanzitutto non ci sarà sovrapposizione per nessun evento quindi il calendario è piuttosto fitto. Un ospite del quale vale la pena sicuramente parlare perché è una cosa che ci riguarda molto da vicino è anche il noto paleontologo Manzi che verrà a presentare il suo libro ed è un paleontologo di fama nazionale perché lui è ordinario alla sapienza e quindi verrà a parlarci anche di ciò che noi viviamo quotidianamente con il nostro museo.